buongiorno tramite fammi avete visto questo palco chiediamo se io credo qui gatto ti prego dai via allora vi spiego navigando su facebook scusi ho appunto conosciuto questa ragazza che fa parte di libero scelto beh proviamo vediamo anche se vabbè e poi già stata sento che sono già a un tavolo un po' che sono firma quindi prova delle scadenze dai va ti mostrai curata a tutti e qua mi hanno dato di nuovo quindi comunque insomma mi hanno dato appunto il patadino con i campioncini allora apro con voi allora vediamo allora tra di noi io non conosco quindi sto guardando con voi per la volta che è praticamente le offerte ah ok tipo appunto l'album per me le offerte dedicate a me tipo va bene va bene i sacchetti le pochette via via no ovviamente non so come cacchio fa via quindi viene via dai per favore ok le sacchetti di plagi di carta insomma in questo caso un po' di colorazioni quindi poi lo guardo con calma poi ho ho portato qualcosa mi faccio vedere poi il catalogo penso sia che oh allora fammola capisse ok perfetto il catalogo aspetta poi 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 perchè? ma mi dici mi dici perchè? cosa c'è? dai basta addio traccio ok tutte le creme i seri i seri i seri vabbè lo sto guardando me lo faccio vedere un po' così il make up ragazzi essenze ok poi guarda anche questo col calma poi vediamo allora act beauty cos'è? un sero? si adesso le prendi un sero e quindi e quindi ah vabbè si appunto linea vegetale id e queste poi che c'è dentro? allora allora serum serum vegetale quindi di intense firming care questo è curioso e carino lo guardiamo dopo allora facciamo vabbè di questo poi leggo bene che ripeto non so poi allora questo è uno dei toaletto poi poi vi faccio vedere ciò che tutti i campioncini poi ehm anche qua che ho ehm questo è il siero simile a questo questo è rospro questo arancione poi c'è anti age poi insomma un po' di cremine quest'altra fondotinta profumo prima notte si uh un po' di cremine un po' di cremine che cos'è però un profumo un po' di cremine ok e poi gli altri poi questo è un il francese il francese lo ricordo poco quindi non so se è un vabbè è una tradizia però non capisco se è un scusate un buro cacao base de merveille probabilmente è un probabilmente è un emolliente labbra e poi allora dentro in questo sacchettino allora ci sono i rosci mandarino ah ok bagno doccia un bagno doccia un bagno doccia questo è olio sotto la doccia poi crema mani poi balsamo dopo barba quindi sensitive home e aiuto e oh sta girata idra vegeta cosa non è che mi da tanti penso adesso speriamo che questi sistemi nel senso che si vi metta mmm è profumatissima provare provare mmm wow è delicatissimo e poi c'è adesso aiuto e poi la la palettina allora basta si abbiamo usato tutto penso si e adesso faccio una foto così le confermo che mi sono arrivati e niente sfoglio il catalogo insomma provo vediamo vediamo come butta questa cosa e nulla vi saluto ci vediamo anzi no vi saluto un momento vi faccio vedere c'è una luce fantastica questo ha smesso ha smesso di nevicare ma va beh insomma per quello che si vede non ha proprio perché fa freddissimo e io e la bestia vi salutiamo ci vediamo in un prossimo video anche perché avevo intenzione di girarmi uno oggi visto che c'è questa luce bellissima questa luce da neve bellissima e ci vediamo al prossimo ciao